Il fornitore di energia Estra invece ha aperto a Grosseto il primo store in un territorio dove la Multi Utility ha una presenza forte. All'inaugurazione c'era anche il sindaco, Anton Francesco Vivarelli Colonna, a celebrare l'arrivo a Grosseto di Estra, la Multi Utility dal cuore toscano che sbarca adesso anche in Maremma con un nuovo store, quello che ha aperto i battenti in via Simenes. Un concetto moderno, disponibile, colloquiale dove offriamo tutta una serie di informazioni consulente, dove vendiamo prodotti sulla mobilità elettrica come questa bici che ho di fianco o lampadine ad alta efficienza energetica, ma soprattutto diamo la possibilità di comunicare autoletture, di confrontarsi con una grande compagnia energetica che offre servizi in termini di luce, di gas e non solo, anche di efficienza energetica e di telefonia, di telecomunicazione. Si tratta del primo negozio store della società fornitrice di energia Grosseto, pensato con degli spazi confortevoli, un'ampia fascia d'apertura al pubblico ed uno schermo all'interno che riporta le notizie provenienti dal gruppo. Una società fatta di persone, bisogna rifuggire dalle logiche globalizzanti e delle multinazionali, ritornare a guardarsi negli occhi, ritornare a parlare tra di noi, tra uomini, perché è lì che si trova il vero sviluppo, è lì che si trova il vero elemento promotore di tutte quelle che sono le nostre possibilità di crescere e di sfidare anche il mondo globalizzato, il commercio che ormai ha assunto dimensioni internazionali. Questa è una grande azienda ormai di livello nazionale ma che è fortissima in questo territorio perché ha rispetto e si ricorda l'origine pubblica. Per noi è un ritorno al futuro, stiamo affermando un modello commerciale rispettoso del cliente, non inseguendo unicamente il business ma avendo cura del patrimonio delle famiglie e delle imprese.